Si sarebbero perse le tracce dei due fidanzati nigeriani vittime del branco, lei violentata e lui massacrato di botte. La coppia, attesa per domani di fronte al GIP a Giampiero Borraccia, che ha fissato l'incidente probatorio, risulterebbe al momento irreperibile. I due, una ventitrenne nigeriana residente a Ferrara ed un ventisettenne con nazionale domiciliato invece all'Aquila, domani ovviamente nel caso in cui si dovessero presentare, dovranno confermare davanti al giudice quanto dichiarato in questura, ossia l'abuso sotto la minaccia di un coltello del quale sarebbe stata vittima la giovane all'interno di un appartamento delle ville di Monterchi. L'uomo invece ha raccontato di essere stato picchiato prima a mani nude e poi con un bastone. I due sarebbero arrivati in Valtiberina dopo aver perso il treno per far ritorno a casa. A Campodimarta avrebbero infatti incontrato i sei connazionali che si sarebbero offerti di ospitarli per la notte all'interno dell'abitazione di Monterchi, dove poi invece si sarebbe consumata la violenta aggressione. La coppia sarebbe riuscita a fuggire solamente il mattino successivo, una volta tornata da Rezzo a sporto denuncia e hanno così preso avvio le indagini. Gli agenti della questura hanno individuato quattro dei sei presunti aggressori, sono così scattate le denunce, una per violenza sessuale, tre per lesioni e sequestro di persona. I quattro denunciati, tutti regolari sul territorio nazionale, continuano invece a negare ogni tipo di violenza carnale. Sono però ancora molti gli aspetti da chiarire di questa vicenda. L'uomo presenterebbe infatti lesioni irriconducibili all'aggressione denunciata, non ci sarebbero invece segni evidenti di stupro sul corpo della donna. La squadra mobile di Rezzo, guidata dal dottor Francesco Morselli nel più stretto riservo, intanto sta continuando ad indagare per chiarire ulteriormente i contorni di questo torbido episodio che si sarebbe consumato nella notte tra il 6 e il 7 ottobre scorsi.